Il 12 dicembre 2015 le Logge del Grano tornavano a vivere. L'edificio, ex sede della stazione degli autobus, tornava a nuova vita ospitando il primo mercato aretino dedicato ai prodotti del territorio, un vero e proprio chilometro zero stagionale. Festeggiamo il primo anno di attività del mercato coperto delle Logge del Grano che è stato inaugurato nel dicembre 2015. Attualmente sono 72 le aziende che fanno parte di questo progetto e che portano i prodotti in vendita all'interno delle Logge. L'anno scorso eravamo 55 e speriamo di continuare in questa dimensione qui e di aumentare ancora di più le aziende presenti. Il nostro è un chilometro zero reale e soprattutto stagionale perché ci sono prodotti quasi esclusivamente della provincia di Arezzo, limitrofi, che seguono attualmente nell'ambito agricolo la stagionalità del momento della produzione. Tra le aziende presenti all'interno del mercato coperto c'è anche la conserveria, realtà di Castiglion Fiorentino che ha permesso a 12 ragazzi portatori di handicap di potersi avvicinare al mondo del lavoro. Rientra un po' negli obiettivi della rete non solo fare mercato coperto, aggregazione e vendita dei prodotti locali ma occuparsi anche del sociale. Fra le aziende che espongono c'è la conserveria di Castiglion Fiorentino che appunto svolge questa funzione qui impiegando 12 persone diversamente abili nella preparazione dei loro prodotti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.